bella a tutti gente sono sempre io la vostra amichevole francician di quartiere e oggi siamo qui per fare il secondo livello del quadro numero 2 che si chiama get them eye portali in alto e allora procedemos senza ulteriori indugi siamo in arabia la terra di aladino delle notti d'oriente tra le sette bazar dire c'è uno ha preso mannaggiamme miseria non volevo prendere il camometro vabbè ripartiamo non è un problema vedi fra invece di cantare aladin mettiti a giocare serio invece di stupideggiare qui abbiamo cose importanti da portare a termine ok le notti d'oriente tra le sette bazar non calde lo sai più calde che mai ti sapranno incantare ok non canto più promesso andiamo a raccattare le melu occhio a questo che fa molto malo si c'è becca vai in grande ok check the point occhio qua che c'è questo che oh perfetto mi hai tolto due nemici in uno bravo crash dammi tutte le tue menine muoviti ma poi mi verranno in digestione a forza di mangiare tutte ste mele oh no son volato vabbè non importa ok ok eppure la versione brutta di aladino è stata sconfitta dal crash qui presente ma porcaccia brava concentratio per favore brava non farmi farlo più più che te ne prego questa me la potevo proprio utilizzare vabbè anyways ma è tutto normale ok ti lascio andare va considerati molto fortunato non ti permetterò di distruggermi ancora ok ci siamo lì c'è un altro check video point there perfect let's go beh buonanotte ok aspettiamo che questo passi vai vai non mi fai nessuna paura amico mio ok ok chiedo scusa per la defiance di poco fa ok let's go al bonus vuoi? ok ma la campitta l'ho aperta vabbè chi se ne è ok ok dov'è qualcosa oh è risorto bling vabbè non importa pazienza possiamo andarci ho volato un botto di roba secondo me si infatti vabbè pazienza chi se ne è poi magari vero riprendermela successivamente noi nel frattempo abbiamo guadagnato però due belle vite che non sono niente male ok adesso qua c'è da fare attenzione se non mi ricordo male l'ho perchè il gioco non si fa si ecco infatti vedi eh eh me lo ricordava io oh se 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 ma la fan piffera mi è imprigionato nel vaso uffa e vabbè ragazzi uff abbiate pazienza questo livello non lo finirò mai ok ma spesso perché comincia ad essere abbastanza difficile eh ecco io voglio dire proprio essere pirla bravo acquaco aiutami tu purtroppo sono un abba c'è poco da fare ok mi raccomando però staccati di nuovo eh via 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 ok grande ok adesso facciamo molta attenzione e voilà sembra facile poi vabbè chi gioca come me sa che una cosa è giocare concentrandosi un'altra parlando e minchioneggiando mentre si gioca quindi ok sono molto fiera di me in questo momento ok vai ok ok oh vabbè ho dovuto abbandonare il mio amico onzo ma nooo che rabbia mannaggia mannaggia la miseria ahhh ok 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 dai crash vai e vinci ok bella per te sotto sotto specie di aladdino sottofagato ok abbiamo finito pure get the might perfect e ci siamo anche questa è andata yeah a questo punto signore e signori prima di buttarci uh il prossimo è la corsa sarà divertentissimo e allora io signori vado a fare il carburante nel frattempo vi do appuntamento al prossimo entusiasmantissimo episodio di Crash Bandico 3 World e se vedremo alla prossima corsa che sarà una corsa ciclistica anzi moto ciclistica preparate i biglietti gente baciii baciii